Sono di Bussarsizio, mi sono laureato presso la Cattolica di Milano in Economia e adesso sono al mio terzo anno di dottorato sempre in Economia presso la University of Nottingham. Io mi occupo di Political Economy of Migration, per cui è la relazione tra l'immigrazione in diversi paesi e quello che è l'impatto politico, quindi qual è la reazione politica nei diversi paesi. In particolare adesso sto studiando qual è stato l'impatto che hanno avuto gli immigrati dei paesi dell'est, nel Regno Unito e come questo ha influenzato l'opinione euroscettica dei cittadini britannici.